E' finito in manette per spaccio di sostanze stupefacenti anche un dipendente dell'ASL assieme ad un cittadino tunisino di 28 anni. I due pusher sono stati arrestati sabato mattina dai carabinieri di Arezzo. Nel corso delle perquisizioni sono stati inoltre sequestrati 35 grammi di eroina e cocaina suddivise in dosi e pronte per l'accessione e 750 euro. Le indagini erano partite lo scorso settembre e al centro dell'inchiesta la cessione di sostanze stupefacenti in maniera continuata, abituale e sistematica a tossicodipendenti e a retini. Nel mirino dei militari in particolar modo era finito un appartamento di via Vittorio Veneto per un sospetto Andi Rivieni. In quella casa abitava un cittadino tunisino sul quale pendeva un obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. L'uomo, dopo alcuni blitz delle forze dell'ordine nella zona, si era trasferito a Montione e anche nella nuova abitazione i militari avevano registrato lo stesso sospetto via Vai. Sono così scattate sabato mattina tre perquisizioni, delegate dalla Procura della Repubblica di Arezzo. In due casi sono state trovate sostanze stupefacenti e così sono scattate le manette per un 28enne tunisino e per un 36enne italiano. Quest'ultimo impiegato dell'Asla lavorava all'ufficio CUP. Attualmente è ancora al vaglio degli inquirenti la posizione della convivente del 28enne tunisino. Gli arrestati sono stati portati nella casa circondariale di Arezzo in attesa della convalida della misura restrittiva.